I servizi di Eurocert, ascensori e altri impianti elevatori. Siamo autorizzati dal Ministero ad effettuare la valutazione di conformità per la certificazione CE e le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elevatori. Controlliamo l'efficienza e lo stato manutentivo dei singoli componenti per garantire la sicurezza globale dell'impianto. Le verifiche avvengono tramite personale tecnico specializzato e abilitato e con l'utilizzo di strumenti certificati. Da oltre 20 anni noi di Eurocert ci occupiamo di ispezioni e verifiche periodiche e questo è il nostro impegno quotidiano per garantire la sicurezza degli edifici e soprattutto delle persone. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!